bella raga qua è savix che vi parla bentornati in questo nuovo video e benvenuto perché nuovo nel canale oggi ragazzi come avete visto dalla copertina outfit rarissimo della setta di gta 5 storie quindi ragazzi come facciamo sbloccare questo outfit dobbiamo andare dentro il nostro knight ragazzi uguale qualsiasi knight avete l'importante è che andate nel bagno e andate da questo tizio che pulisce i cessi a questo punto dovremmo andare a dare delle mance spammando frecce a destra a questo tizio allora ragazzi dopo circa due minuti che daremo mance ci arriverà il primo messaggino sopra la minimappa il primo sarà cercando la verità ragazzi il secondo comparirà dopo circa 12 minuti che date mance non mi ricordo come si chiama adesso andiamo a vederlo e ragazzi il terzo invece comparirà dopo 18 minuti che date mance quindi raga ve lo dico dovremmo stare qua circa 18 minuti a spammare la freccia a destra per sbloccare questo outfit quindi raga a questo punto non vi sto a fracassare la voallera facendovi vedere tutto il timing tutto il tempo quindi cosa facciamo per chi vuole vedere il completo e come salvare il completo schippate il video e andate direttamente al minuto 8 dove si trova l'ultimo obiettivo che vi ricordo si sblocca dopo 18 minuti che state spammando quindi raga ci vediamo a 8 minuti ciao 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti